Una mostra molto importante per i cent'anni di Pasolini. È importante perché è importante la figura storica e artistica che si va a onorare, una figura eclettica sotto il punto di vista artistico, scrittore, pittore, sceneggiatore, regista. Insomma, Pasolini ha toccato tutte le arti, le ha toccate in modo significativo, ha raccontato un secolo e le criticità di questo secolo. È importante perché viene fatta in uno spazio di cultura e di arte assolutamente indipendente, uno spazio civico, uno spazio nato dall'intraprendenza di due ragazzi e noi siamo contenti come amministrazione di patrocinare questa iniziativa che è in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Roma. Quindi non potevamo che dare il nostro appoggio a questa iniziativa validissima e di alto valore. Il progetto Manifest è un progetto al quale stiamo lavorando da tempo già durante il lockdown con il professore Gello Caproietti con il coinvolgimento dell'Accademia delle Belle Arti di Roma e poi anche dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino. E oltre a una mostra all'interno di Fabrica Urbana c'è un'importante mostra in città che potremmo considerare di street art perché abbiamo messo a disposizione per la prima volta nella città di Fano gli impianti pubblicitari di affissione a favore della comunicazione artistica per cui vedrete in varie parti della città dei manifesti senza loghi ma solo immagini e grafiche che fanno parte di questa mostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti